E se qualcuno di voi non è troppo sopra di fare un bel viaggio ragazzi, prendete il coraggio, ispirateli! Io vi consiglio di venire qui a casa gente! Non solo, ma ragazzi, basta poco, bastano gli amici giusti, ha ancora fermato di treno ed è un viaggio speciale da fare! Eh sì, infatti, però purtroppo è... È finito! Il primo di freno purtroppo è arrivato! È andato! Il primo viaggio è andato! È andato, quindi... Dopo diciamo di cosa parliamo oggi. Oggi abbiamo la macchina del seno! La macchina del seno! È pronto! Vedi, non hanno detto che non lo dicevamo! Scusa! Vabbè ragazzi, non ha detto niente lui! Quindi ragazzi, buon viaggio a Cologno-Monzese e in provincia di Milano! E adesso... C'è, casa c'è! Ogni giorno subito, tutti i giorni ho volito! Casa c'è! Rai a casa se ci sei!